Allora, di fronte all'inerzia dell'azienda che ha dichiarato di fatto le ferie, per noi non sono ferie, per noi per quanto riguarda il sindacato sarà un agosto di lotta, un settembre di lotta. Noi da oggi passiamo alla fase 2, ripeto, di fronte a un'inerzia dell'azienda che non dà assolutamente risposte, come abbiamo già detto, come abbiamo già detto in prefettura, come abbiamo ribadito più volte, non ci sono abbastanza risorse per quanto riguarda il personale infermeristico e addirittura zero per quello che riguarda il personale OSS. Quindi di fronte a questa non risposta da parte dell'azienda, noi passiamo da oggi alla fase 2, quindi cominciamo a bloccare gli straordinari, cominciamo a bloccare i rientri selvaggi, chiederemo gli ordini di servizio ogni qual volta ci viene chiesto di rientrare in servizio. Sostanzialmente la carenza cronica di personale in tutte le varie realtà dell'azienda ASL Toscana Sud-Est, sia dal punto di vista infermieristico, sia dal punto di vista degli operatori sociosanitari. Quindi il problema è proprio la carenza cronica di personale sia nei reparti che nei servizi ambulatoriali e territoriali. Non c'è stata sostanzialmente nessun tipo di risposta, soltanto un modo per concretizzare il fatto che non c'è la possibilità di generare nuove assunzioni, che non c'è la possibilità di prendere nuovo personale, che al momento siamo abbastanza secondo i numeri che l'azienda ci ha fornito. Sicuramente noi non abbiamo intenzione di fermarci alle parole, quantomeno se non abbiamo delle risposte concrete nell'immediato futuro.